Sono 473 mila pensionati all'estero, gli OVAR 65 trasferiti nel 2010 si sono trasferiti 2.553, nel 2015 5.345. Sono dei pazzi secondo Librandi, perché vanno a stare peggio. No, il 70% preferisce naturalmente non andare oltre ma rimanere in Europa, in Europa vuol dire Bulgaria, Romania e compagnia bella. No, Germania, Francia. Io credo che meritino rispetto, perché una persona che ha lavorato una vita e sceglie di lasciare la sua casa, la società, evidentemente lo fa perché è messo nelle condizioni di non poter più vivere dignitosamente a casa sua e merita rispetto. Guarda bene tutte le statistiche. Io sono un italiano e adoro l'Italia. E cercherebbe di risolvere i problemi di questa Italia. L'indice della sanità nel mondo, l'Italia è terza, la Spagna è ventesima, la Bulgaria dove vanno è cinquantesima. Ma vivono meglio lì, qui fanno la fame e lì vivono. Moriranno prima perché avranno una sanità che non funziona. Eh va bene, d'accordo. Li maledica pure, ma che cosa ce ne fa? Moriranno prima. Pubblicità.